Poi le impostazioni personalizzate di phish, perché anche phish ovviamente, ecco queste due schede non mi servono più, ecco phish ovviamente come qualsiasi bash ha un suo file nel quale si salva le configurazioni, ovvero come vogliamo che parta, come vogliamo che faccia le sue cose eccetera eccetera. Ecco, si chiama configphish questo file e si trova nella cartella nascosta nella vostra home .config, eccola qua, .configphish, questo file è appunto l'equivalente, se vogliamo iniziare a fare dei paragoni con bash, che magari qualcuno di voi conosce perfettamente bash, non conosce phish, ecco se facciamo dei paragoni, è l'equivalente del file .bash.rc che si trova sempre nella home nascosta, come file nascosto, ecco l'equivalente, quindi configphish. In questo file appunto viene, e questo file paragonandolo sempre a bash.rc, come questo viene eseguito ad ogni login, quindi bash.rc e configphish, ogni volta che fate partire il vostro pc viene eseguito, vuol dire che viene letto, viene interpretato, vengono eseguiti eventuali comandi contenuti in questi file. Quindi se serve appunto sappiate che in questo configphish potete metterci ciò che volete eseguire o far partire la partenza del pc, perché funziona così. Per rileggere le impostazioni, quindi se le modificate mentre il vostro pc è acceso, se non volete fare un reboot del vostro pc, se non volete farlo ripartire necessariamente, magari per una piccola modifica a questo file, potete sempre rileggerlo al volo a pc acceso, ecco, a sessione accesa come in questo caso, eseguendo il comando source, spazio e il file, il percorso del file. Ecco, questo comando permette di reinterpretare il file senza appunto dover fare un riavvio del pc. Ecco, adesso passiamo appunto al messaggio di benvenuto, che è quello che avete già avuto modo di ammirare qui, questo messaggio di benvenuto con il pescetto, non è quello originale, questo è già il mio personalizzato. Quindi Fish prevede che ad ogni avvio di nuova sessione di se stessa, appunto di Fish, prevede di far apparire un messaggio di benvenuto, ecco, quello per difetto è in inglese, è un tipo benvenuto nella shellfish, qualcosa del genere, non mi ricordo più bene, comunque quello originale è in inglese, è un paio di frasette così che appaiono qua in cima e poi c'è il prompt del terminale. Ecco, questo messaggio può essere personalizzato e proprio mettendolo nel file config fish, come si fa? Quindi si può anche toglierlo, prima di tutto, se voi mettete nel file config fish, ecco che io lo apro il mio personalizzato, vedete che ho appunto questo comando set fish, rigette underline, sottolineato, greeting e mettete virgolette e virgolette e voi annullate il messaggio di benvenuto, quindi non ci sarà nessun messaggio di benvenuto. Se invece, come nel mio caso qui, dopo fish, sottolineato, greeting, mettete una vostra stringa di caratteri, il vostro testo anche su più righe, quello sarà il messaggio di benvenuto. Ecco, anche su più righe. Quindi nella descrizione di questo video, oltre ai file che colorano la sintassi, vi lascerò anche il mio config fish, perché al momento comunque non contiene nient'altro che la personalizzazione del messaggio di benvenuto, quindi non c'è nient'altro. E ve lo lascio in descrizione perché trovo carino avere il pescetto di fish, se anche voi volete adottare il pesce potete prendere spunto, copiare il mio config fish, adottarlo, così anche a voi uscirà il pesce tutte le volte che avviate il terminale. E questo pesce però non l'ho disegnato io, naturalmente nel mondo open source si dà a Cesare sempre ciò che è di Cesare e devo dire che questo pesce l'ho preso pari pari, copia e colla, da questo indirizzo che troverete comunque in descrizione. Quindi mi sono preso la libertà di prendere, diciamo, ecco, questa parte, tutta questa qua, che adesso è diventata grigia, nera, tutta questa parte io ho fatto copia e colla da quell'ink lì, dove già qualcun altro ci ha pensato a disegnare con tutti i colori, le barrette, nella posizione giusta, disegnare un pesce stilizzato e si riconosce proprio che è un bel pesce. Ecco, quindi non l'ho fatto io, l'ho solo adottato perché mi sta simpatico. Poi, passiamo, eh, c'è ancora un po' di roba, eh, la configurazione via web. Vi potrà sembrare strano che parlando di una shell, ovvero di un'interfaccia caratteri da terminale, si pare di configurazione via web. Ebbene sì, FISH, come dire, essendo una shell moderna, in quanto tale, si permette anche di includere una configurazione via web. Ovviamente non è obbligatoria, non è che si configura solo così, è solo che per praticità, diciamo così, possiamo anche sfruttare questa opzione quando siamo in un desktop grafico, come nel caso di Unity o altri. Ecco, possiamo sfruttare il browser. Il comando per aprire questa configurazione via web è FISH, sottolineato, CONFIG. Eccolo qua. Una volta avviato quel comando, e lo faccio qui adesso, FISH, CONFIG. Vi ho visualizzato un qualche messaggio tecnico qua, e fra un attimo vedete che nel browser, ovvero qua, ecco che parte la configurazione via web di FISH. Quindi è un piccolo, tra virgolette, server web locale che presenta queste pagine con le varie parti di configurazione della nostra, con alcune configurazioni della nostra shell messe, diciamo così, con interfaccia grafica, magari un po' più pratica, un po' più rapida per certe cose. Ripeto, non è obbligatorio, ci sono i comandi da terminale, appunto, per effettuare queste operazioni parimenti alla impostazione web. Ok, qui intanto resta attivo il nostro contatto fra il terminale e il browser, e qui vedete che l'interfaccia è composta da varie schede, e queste schede andando per ordine, il primo, ecco qua, imposta il tema dei colori, che usa FISH, i colori, diciamo, del prompt, vedete questi qua, il blu, l'azzurro, il giallino, il violetto, eccetera, eccetera, questo qui è un tema che potete impostare qua, vi mostra qual è quello corrente, quello che sto usando io adesso, se no qui mostra vari temi predefiniti, basta che facciate clic su uno, adotta quello e immediatamente il terminale si adatta e vi mostrerà altri colori, vedete, più chiari, più scuri, grigi, più colorati, ci sono dei temi predefiniti, ecco. La seconda scheda è quella che vi permette di impostare come è formatato il prompt, quello corrente è uno, diciamo, semplice, la mia user e il nome del PC, al momento non ci ho guardato più di tanto, vedete che qui, con quei colori, c'è la mia user e il nome del PC, che è quello corrente, poi ci sono altri prompt, anche qui, predefiniti, c'è un elenco di prompt predefiniti che vi danno più o meno informazioni al prompt dei comandi, anche qua, puoi visualizzare le funzioni definite, quindi le funzioni, come detto, è un capitolo importante per FISH, con le funzioni si fa molto, e qui sono quelle predefinite o definite anche da voi, è questo qui l'elenco completo delle funzioni conosciute da FISH in questo momento sul mio sistema, quindi queste qui sono le funzioni, potete vedere il codice delle singole funzioni qui, ovvero ogni funzione cosa esegue come codice per fare il suo compito, per svolgere il suo compito, eccetera, eccetera, qui potete semplicemente visualizzare le funzioni, il catalogo delle funzioni, poi le variabili, definite variabili, diciamo, come dire, persistenti, ecco, anche se chiudo il terminale di FISH non è che vengono dimenticate, queste sono variabili di sistema, chiamiamole così, ma anche di FISH che però sono persistenti da una sessione all'altra, sono sempre conosciute a FISH, ecco, queste sono le varie variabili, anche qui le elenco, con ognuna il contenuto secondo il suo scopo, ecco, le variabili di FISH, poi, se volete cercare, tra l'altro c'è anche un campo di ricerca qui per la specifica variabile, poi visualizzare e pulire selettivamente la storia dei comandi, ecco, anche qui ci sono dei comandi, la terminale per pulire o visualizzare e gestire la storia dei comandi eseguiti in FISH e qui però potete anche, vedete qui, le crocette rosse sulla destra, se voglio eliminare dalla storia dei comandi che ho eseguito in FISH questo LS che ho eseguito a un certo punto, clicco qui sulla freccetta e il comando sparisce, non c'è più nella storia dei comandi, poi qui ce ne sono iOS, insomma, tutti quelli che ho eseguito nel tempo, senza preoccuparmi di pulire la storia man mano, quindi qui non è solo una scheda di consultazione delle configurazioni di FISH, ma si può anche agire, fare qualcosa, quindi pulire la storia selettivamente, quindi a 1 a 1 potete dire questo comando non mi interessa, lo cancello dalla storia di FISH e via via, qui se sono 2000 comandi avrete un elenco di 2000 voci. Poi visualizzare le combinazioni dei tasti definite, quindi bindings qui sono le combinazioni tasti, quindi per ogni operazione tipo, non so, andare avanti indietro di un singolo termine mentre state digitando un comando, eccetera, vedete qui freccia giù, va in giù nella ricerca, freccia giù, va in giù nella ricerca, freccia su, va su nella ricerca dei comandi, della storia dei comandi, eccetera, eccetera, qui potete visualizzare le scorciatoie da tastiera e i tasti da premere per ottenere un certo risultato, quindi sulla sinistra vedete cos'è l'operazione, sulla destra la combinazione dei tasti per eseguire quell'operazione. Poi impostazioni, impostare le abbreviazioni, ecco questa è una funzionalità che non ha in questa forma una corrispondenza in altre shell, una cosa che può essere comoda, ne ho creato un paio per poi mostrarvele nel video dove parlo anche di queste cose perché non vi mostro qui il dettaglio delle abbreviazioni, diciamo è una, la descrizione è che sono degli acronimi, noi possiamo creare degli acronimi appunto, abbreviazioni, quindi piccole sigle a nostra scelta che sono associati a comandi più lunghi, ecco quei due che ho creato qui, li vedete qui, n1 è l'acronimo molto breve per fare questo comando, ecco, editor, ecco, qui vedete che appena ci ho cliccato è diventato modificabile perché posso gestire direttamente qui le mie abbreviazioni, poi vedete che qui sulla destra appare il pulsante di safe per salvare la modifica oppure la x per cancellare quella tale abbreviazione, qui via web posso gestire, creare, rispettivamente cancellare le abbreviazioni che mi interessano, così come posso farlo, ripeto, da terminale, lo vedremo appunto più in là, ecco, per maggiori dettagli dovete attendere la terza parte di questo corso perché questa non è quella dedicata a queste cose, a questi dettagli, qui vi mostro solo che si può configurare fiscia anche da via web, e voilà, chiudo la pagina, torno nel terminale e qui vedete che all'inizio è uscito il messaggio che basta premere enter per fermare, diciamo, questo mini browser delle configurazioni, vedete, shutdown, quindi si è chiuso il collegamento con il browser e adesso siamo tornati alla nostra prom di FISH normale, ecco, questo solo per mostrare che c'è l'alternativa via web, non obbligatoria, ma addirittura FISH vi presenta una possibilità via web di configurare se stessa. Poi, cosa c'è ancora di interessante? Ecco, non molto, abbiamo quasi finito per questo video, leggere o rileggere, vediamo un po'. Le definizioni delle pagine manuali, ecco, questa anche è una funzionalità che io sappia non esiste o non in questa forma in altre shell, è quella, la possibilità di far leggere a FISH i manuali, quelli che noi apriamo con MAN, i manuali, con il comando MAN, normale, MAN MAN, questo è il manuale di MAN, ecco, con questo comando FISH, sottolineato, update, sottolineato, completions, questo comando va a leggere questi file di manuale, questo qui che sto scorrendo adesso, va a leggerseli e si crea, e si crea un suo catalogo con tutte le opzioni dei comandi nativi del kernel Linux, insomma, ecco, le opzioni che si mettono con il meno dopo i comandi, per intenderci, non sono per contro prese in considerazione le opzioni specificate con i due trattini, tipicamente, vediamo un po', MAN H, ecco, MAN H, vediamo un po', dove è la H, se lo trovo, dove è, dove è la H, non trovo l'H minusco, vabbè, MAN-H ha visualizzato questo messaggio di aiuto e normalmente è accompagnato dal corrispondente opzione trattino, trattino help, che è poi la medesima cosa, quindi un trattino H o due trattini help, ecco, vedete, visualizza la stessa cosa, ecco, questo comando di FISH, FISH update completions, tiene conto, riconosce tutte queste opzioni che vedete qui con un trattino, meno t, meno t, meno h, meno x, ma non queste, meno meno html, meno meno tr off, eccetera, quelle no, però, ecco, rispetto alle altre shell, con questo comando permette di creare un suo catalogo che nell'autocompletamento dei comandi ci permette di, ci aiuta con l'elenco delle opzioni dei vari comandi, che per esempio in BASH non c'è, quindi se io non so che devo usare meno z, devo aprire il manuale, vedere cosa fa meno z e poi usare questa opzione. Con FISH ci aiuta già FISH stessa con l'autocompletamento delle opzioni dei comandi, non solo dei comandi, quindi, quando io faccio MAN, righetta, schiaccio il pulsante tabulatore, vedete che lui mi presenta le opzioni meno VW, meno VW, meno K, meno M, e poi ce ne sono ancora, ecco, vedete che meno h l'ELP, lo vedete qui, meno h minuscolo, eccetera, eccetera, vedete che lui, o lei, se vogliamo chiamarla affemminire la shell, lei ci aiuta anche con le opzioni dei comandi, non solo con l'autocompletamento dei comandi stessi, e questo grazie alla creazione di un catalogo delle opzioni dei comandi con questo comando di FISH, quindi se io eseguo questo comando, FISH update completion, basta far così, è senza parametri, enter, lui parte, e vedete che sta parsing, ovvero si sta analizzando le MAN pages, ovvero le pagine del manuale, sta scrivendo il suo catalogo in questa cartella, nascosta nella vostra home, local, share, FISH, generated completions, vedete sta passando tutti i manuali presenti sul vostro sistema, ecco, questo comando, man mano che installate eventuali altre parti del kernel Linux di utilità, eccetera, dovreste rieseguirlo ogni tanto per aggiornare queste, questo catalogo di FISH, che vi aiuta appunto con le opzioni dei comandi, ecco, adesso vedete che ha finito, 2702 file di manuali, se li ha passati, e adesso FISH conosce le opzioni dei comandi, quindi, che ne so, anche l'LS, che è quello semplice che elenca file cartelle, se faccio ls, righetta, tabulatore, vedete che mi mostra tutte le opzioni dei comandi, ecco, li vedete, tutte le opzioni dei comandi, qui addirittura vi dice che siamo solo a metà, quasi a metà di tutte le opzioni che ha quel comando ls, e man mano che si posiziona nell'elenco, sopra vi riporta già l'opzione specifica, ecco, addirittura sto facendo una prova, fatemi vedere, ecco, addirittura vedete che quello che ho scritto qui non è già più vero da una versione all'altra di FISH, perché adesso ci riconosce anche le opzioni con le due righette, ecco, questa scaletta, di questa parte del primo video, l'avevo scritta una settimana o due settimane fa, nel frattempo le versioni di FISH sono andate avanti e quello che vi ho scritto qui, che non sono prese in considerazione lo stato attuale, le opzioni specificate con doppia righetta, vedete che non è più vero, con la versione di FISH che ho installato attualmente sul mio sistema, vedete che anche le opzioni con le due righette sono elencate allo stesso modo in cui sono elencate quelle con una righetta, le opzioni dei comandi, vedete, e questo non funzionava quando io ho scritto questa scaletta, quindi non ho più verificato, ma vedete, bella sorpresa, in diretta, addirittura è migliorato FISH e riconosce anche le opzioni a due righette, non solo quelle ad uno, vedete che qui ci presenta la doppia righetta e quelle a fianco anche con una righetta, viceversa solo quelle con le due righette, ecco, quindi ok, FISH addirittura migliorata ancora, quindi questo in realtà posso fare una bella crocetta rossa perché non è più valido, quindi questo posso addirittura far così, perché adesso FISH riconosce anche le opzioni dei manuali con due righettine, molto bene, quindi migliora veramente di versione in versione, questo FISH. Ultimo punto, le fonti di documentazione che sono importanti perché vedere questi miei video può aiutare, ma poi quando ci si mette il naso di persona si ha sempre bisogno di documentazione e di capire cosa fare, come, com'era la sintassi quel comando qua e là, come succede anche a me, quindi prima di tutto sappiate che la documentazione è molto buona nei manuali, quindi la documentazione più a portata di mano è quella del comando MAN, quindi per esempio il comando SET, se io faccio MAN SET mi si apre il manuale per questo comando di FISH e è veramente ben descritto con tutte le opzioni di manuali, sono completi, quelli direttamente nel terminale, quindi è già una buona fonte subito a disposizione nel nostro terminale. Poi il sito di FISH include l'aiuto per tutti i comandi e lo include qua, documentation, ecco qua, qui spiega un po' anche la storia del progetto, i comandi eccetera eccetera e poi c'è anche una parte di comandi, commands qui e dalla A in ordine alfabetico fino a W, sì, fino alla W e ci sono tutti i comandi attuali di FISH, vedete che non sono tantissimi come ho detto nell'introduzione del corso, però ci sono, questi sono i vari comandi di FISH, fra i quali il FISH update completion che abbiamo appena visto per completare l'autocompletamento delle opzioni dei comandi in FISH, oppure il FISH config che è quello della configurazione web based, vedete, ci sono tutti i comandi, quindi è molto buona, ben descritta anche con degli esempi di utilizzo dei comandi, una buona documentazione, FISH stesso e poi c'è anche una particolarità legata al web se vogliamo ancora una volta, il comando help da terminale, date help comando e vi si apre direttamente una pagina di queste, come queste qui, posizionata su quel tal comando, ecco io ve lo mostro, facciamo di nuovo help set, enter e qui vi dice guarda che sto per aprirti una pagina di aiuto per quel comando, ecco che mi si apre e vedete che è posizionata direttamente nella pagina set, la pagina del comando set, quindi vedete che veramente ci sono tutte le opzioni per essere documentati in FISH, non ci manca nulla, quindi qui facciamo enter e torniamo alla nostra shell, ecco con questo ho concluso, è un po' lungo questo video forse però era assolutamente necessario capire dove reperire la documentazione, come completare l'autocompletamento dei comandi di FISH che vedremo, come sarà utile anche nei prossimi video, quindi questo comando ogni tanto eseguirlo per aggiornare le opzioni conosciute nei manuali dei vari comandi installati nel vostro sistema, abbiamo visto come si configura FISH comodamente via web, un'alternativa via web, il messaggio di benvenuto e tutto quanto, insomma ecco una base, caratteristiche principali installazioni appunto, abbiamo visto tutto questo in questa prima parte, ecco con questo concluso vi saluto e vi attendo alla prossima parte del corso su FISH, ciao ciao!